Il gruppo misto Toscana Domani hanno lasciato l'aula dell'Assemblea Consiliare prima dell'informativa dell'assessore all'ambiente Monia Monni sul piano regionale di gestione dei rifiuti. Le opposizioni hanno voluto protestare per le modalità con cui la Giunta ha gestito la presentazione dell'informativa. La seduta del Consiglio regionale dedicata all'informativa della Giunta sul piano regionale su rifiuti e bonifiche si è aperta con un colpo di scena. I gruppi di opposizione hanno infatti abbandonato l'aula prima che l'assessore Monia Monni presentasse l'informativa. È stato il consigliere di Fratelli d'Italia, Alessandro Capecchi, a fare l'annuncio a nome delle opposizioni e a motivare la scelta. Come opposizione abbiamo presentato una questione pregiudiziale sul piano dei rifiuti perché ritenevamo e riteniamo che la procedura che sta portando avanti la Giunta sia sbagliata nella forma e nella sostanza. Dopo giorni in cui rispetto a 15 giorni fa c'era stato promesso un approfondimento anche tecnico che sciogliesse il nodo, ieri, prima del Consiglio, il segretario generale in conferenza dei capigruppo ha detto che rispetto alle previsioni dell'articolo 48 i rilievi delle opposizioni erano fondati. Nonostante questo il Partito Democratico ha voluto andare avanti spinto da una delibera del Presidente Gianni che, bontà sua, ha ritenuto di superare l'eccezione e i rilievi anche del segretario generale dicendo sostanzialmente che loro hanno ragione e non ritengono, visto lo stato dell'arte, visto lo sviluppo ormai della procedura, di poter tornare indietro e ripartire da capo. Da notare che gli indirizzi del Consiglio regionale dovrebbero arrivare prima che inizi formalmente la procedura. E invece il Presidente Gianni, lo ha ribadito ieri in aula, lo ha ribadito di fronte alle telecamere, considera ormai il piano dei rifiuti già avviato. La questione grave, gravissima, che ne è derivata con le parole anche del capogruppo Ceccarelli in Consiglio è che il parere del segretario generale che è la massima autorità dell'ufficio legislativo che sta dietro ai lavori del Consiglio sono state derubricate a autorevole opinioni facendo prevalere quindi il pensiero dei dirigenti della Giunta sull'organizzazione interna del Consiglio. Si tratta di un ribaltamento dei rapporti di forza tra Giunta e Consiglio che per le opposizioni è inaccettabile e per questo motivo oggi abbiamo deciso di abbandonare l'Aula rispetto alla discussione complessiva del piano dei rifiuti chiedendo al Presidente del Consiglio che naturalmente tuteli le minoranze ma tuteli il ruolo stesso del Consiglio rispetto alla Giunta. Nei prossimi giorni valuteremo anche tecnicamente e anche giuridicamente eventuali ulteriori nuove iniziative. Il tema è uno secondo me a inizio di questa legislatura Eugenio Gianni disse chiaramente che lui voleva collaborare con le opposizioni ecco sta facendo il dato opposto allora trasformi infatti quello che lui aveva promesso a inizio legislatura perché in questo momento lui sta depauperando il Consiglio delle proprie competenze e dei propri diritti perché quando la Giunta arriva e si impone sul Consiglio ed è vergognoso che qualcuno dica che il Segretario Generale dà delle opinioni perché il Segretario Generale non è pagato per dare delle opinioni il Segretario Generale è quello che garantisce il Consiglio e arriva un dirigente di Giunta che di fatto fa anche la parte del legislativo e non è un legislativo tra l'altro facciamo nome e cognomi tanto è agli atti questo dirigente di Giunta è Edo Bernini che è indagato sullo scandalo Cheu magari sarà innocente però comunque insomma noi vederci bypassati da organi di Giunta di cui in questo momento abbiamo anche qualche riserva evidentemente insomma non ci troviamo proprio a nostro agio se i consiglieri del PD sono felici di accettare di non contare assolutamente niente all'interno dell'assiste regionale l'opposizione non fa la parte dello zerbino della Giunta e quindi qui bisogna essere chiari o ci danno delle informazioni ci danno dei dati ci danno qualcosa su cui lavorare o altrimenti noi ad oggi non possiamo dire quali sono le azioni che faremo ma sicuramente contrasteremo il piano dei rifiuti fino in fondo come è già successo nella scorsa legislatura con la riforma della sanità e come succede spesso con le grandi riforme attenzione il piano rifiuti è in ritardo rischiamo di andare in procedura di infrazione perché il PD lo doveva già emanare la scorsa legislatura quindi la colpa dei ritardi ricadrà sui cittadini e ancora una volta oggi si fanno delle forzature ma non si arriva a voler collaborare a fare il bene dei toscani esiste una questione pregiudiziale tecnica sulla quale tutte le opposizioni si sono espresse e avevano chiesto non alla giunta ma a quello che è la figura apicale del consiglio regionale il responsabile dell'avvocatura regionale se su quella pregiudiziale tecnica che il consigliere Capecchi aveva portato in aula 15 giorni fa non ieri quella pregiudiziale avesse un fondamento giuridico rispetto a quello dopo 15 giorni siamo rientrati in aula abbiamo scoperto che su quella pregiudiziale non si è espresso il segretario generale ma ci hanno portato la mattina stessa una delibera di giunta cioè l'ente stesso che ci ha portato l'informativa cioè la giunta ci ha detto che quell'informativa aveva seguito un iter corretto e ci mancherebbe che la giunta avesse smentito il proprio assessore poi abbiamo fatto delle riunioni tecniche con il segretario generale e abbiamo capito che quei fondamenti giuridici che il consigliere Capecchi aveva portato in aula erano effettivamente fondati e proprio perché erano fondati oggi tutte le opposizioni non soltanto una parte o qualche opposizione ha ritenuto opportuno abbandonare l'aula e visivamente plasticamente basta andare a vedere in aula vi è una discussione all'interno della quale sul piano dei rifiuti cioè sulla pianificazione strategica urbanistica quasi più importante della regione toscana il PD discute da solo ma discute talmente da solo che esiste un tema del tutto politico che per la prima volta dopo un anno la giunta ha messo una questione di fiducia ha detto ai consiglieri del Partito Democratico a prescindere da quello che il segretario generale vi ha detto cioè che esiste molto probabilmente una fondatezza giuridica sulla pregiudiziale dovete votare questo atto dovete venire oggi in aula e votare l'atto della giunta perché se così non fate si va tutti a casa sicuramente siamo di fronte a un vulnus come è stato detto assolutamente evidente un vulnus che riguarda proprio l'equilibrio tra consiglio e giunta che in questo momento si è totalmente disperso per quanto riguarda le iniziative formali è chiaro che questo dovrà essere condiviso con tutti i capigruppo è evidente che ci auspichiamo quantomeno che sia formalizzato il parere del segretario generale questo sì perché per noi diventa importante certificare ciò che sta accadendo che forse agli occhi dei cittadini può sembrare legato squisitamente a dinamiche interne in realtà qui si tratta del rispetto della legalità del rispetto del ruolo dei consiglieri regionali che non sono delle comparsi in questo momento ma che devono essere attori di una concertazione che parte dal consiglio perché il piano dei rifiuti non si fa con l'arroganza non si fa colpi di atti della giunta che tra l'altro presentano anche profili di legittimità detto questo c'è un altro aspetto noi rischiamo di perdere il treno del PNRR il bando nazionale è in imminente scadenza la regione toscana è in estremo ritardo sulla pianificazione questo è il dato vero quindi non solo c'è un problema di legalità mettiamola così ma c'è anche un problema di tempistica che non è da sottovalutare il treno del PNRR lo prendiamo adesso oppure siamo compromessi soprattutto sotto il profilo degli investimenti bisogna cercare di spiegare bene cosa sta succedendo fuori proprio perché può sembrare quella che sia normale di atriba tra maggioranza e opposizione ma non è così in un colpo solo si è gravemente minata l'autonomia del consiglio regionale rispetto alla giunta e facendo questo si è mancato gravemente di rispetto non a tutti i colleghi dell'opposizione ma si è mancato di rispetto all'intero consiglio quindi a quelli della maggioranza e si è mancato di rispetto anche al massimo organo al soggetto che rappresenta il vertice legislativo di quell'organo che è autonomo rispetto alla giunta e che è il segretario generale perché così facendo con una delibera emessa all'ultimo momento si è in pratica detto che se la giunta dice che l'iter procedurale che ha seguito va bene praticamente se lo è autocertificato e questo non è accettabile perché è lesivo non soltanto della dignità di tutte le persone che sono a Palazzo Panciatichi e che lavorano per cercare di produrre degli atti che siano il più possibile rispondenti a quelle che sono le esigenze di una cittadinanza degli abitanti della Toscana ma soprattutto perché così facendo si creano dei vulnus legislativi gravissimi abbiamo appreso che le stesse modalità di esame di informative sono state utilizzate anche in passato e ci è stato chiesto adesso che abbiamo consapevolezza che questo danno è stato fatto di continuare ugualmente con questa prassi che ormai era inveterata e noi in coscienza e con un istante elettuale diciamo che questo non è possibile ma innanzitutto preme stigmatizzare l'atteggiamento della minoranza che si è sottratta dal poter dare le indicazioni e gli indirizzi che il Consiglio dà per la redazione di questo importante strumento di pianificazione e di programmazione abbiamo avuto la conferma che più che rilevare vizi procedurali il loro atto che è stato proposto ieri di pregiudiziale è un atto di carattere politico teso a strumentalizzare quello che è l'iter che stiamo seguendo per poter intralciare e quantomeno ritardare la redazione del piano e poi magari per poter dire che la Toscana non ha un piano dei rifiuti e delle bonifiche dispiace anche sentir strattonare quello che è il ruolo del segretario regionale che è tutta la nostra stima ma che non è chiamato a dare dei pareri di legittimità eventualmente come ben sanno o come dovrebbero sapere se vizi di congruità ci sono tra i regolamenti e lo statuto del consiglio regionale che è stato richiamato dovrebbero essere trattati dal collegio di garanzia detto questo noi invece siamo stati al merito abbiamo preso atto della delibera di giunta che ci ha formalizzato di aver seguito correttamente nel rispetto di tutte le leggi e di tutti i regolamenti quelli che sono gli atti che è andato a proporre al consiglio oggi inizia il vero lavoro in collaborazione con l'assessore Monni la commissione quarta che presiedo sarà la sede nel quale ci confronteremo con chi proporrà impianti con gli ato con i gestori con tutti i soggetti che avranno attraverso la commissione la possibilità di dar voce rispetto alle osservazioni di questo piano rappresentiamo i territori rappresentiamo i cittadini rappresentiamo le imprese quindi è risultato stamani anche un po' strano a tutti forse perché non conoscono ancora bene il ruolo del consigliere regionale l'atteggiamento delle minoranze hanno abdicato al ruolo di fare proposte di porre correttivi questo secondo noi è abbastanza grave spero che in commissione con loro con le minoranze presenti cambi un po' il clima e anche loro che vengono da territori molto complessi diano il proprio contributo noi lo faremo l'abbiamo sempre fatto insieme all'assessore Monni e alla giunta porteremo le stanze di cittadini ed imprese passaggio importante che consolida la maggioranza tra Partito Democratico e Italia Viva sostegno della giunta inizia ed entra nel merito la discussione sul piano dei rifiuti i nostri indirizzi sono un atto fondamentale che consentiranno di indirizzare l'attività verso il riutilizzo dei rifiuti la transizione energetica deve essere un elemento portante il riutilizzo delle materie deve diventare un elemento determinante in una logica di economia circolare e soprattutto la produzione di nuove fonti di energia sempre dai rifiuti l'utilizzo delle aree industriali ma soprattutto un doppio livello di verifica che possa essere locale insieme a quello di carattere regionale pensiamo alla possibilità di assumere decisioni solamente se c'è un doppio livello di condivisione questi sono alcuni degli indirizzi che abbiamo portato in aula dentro una discussione che ha trovato la maggioranza compatta a sostegno di una discussione che ci vedrà impegnati nei prossimi anni questo è uno degli atti più importanti che questa legislatura dovrà approvare e ci vogliamo misurare come atto di governo rispetto agli impegni appunto assunti con i cittadini toscani grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti